Era nota come la banda dei finti carabinieri, perché si fingevano tali per mettere a segno i loro colpi, ma adesso i militari veri, quelli della compagnia di Siena, li hanno finalmente arrestati al termine dell'operazione Ostentazione. In manette è così finita la banda, composta da otto persone che aveva terrorizzato l'Aretino, ma non solo, con rapine, furti e spaccate. In provincia di Arezzo le scorribande risalgono allo scorso dicembre, quando alcuni componenti della banda raggiunsero un concessionario di auto di Montevarchi e si finsero interessati a comprare una vettura, un Audi A3 bianca. Fecero un giro di prova, poi all'improvviso gettarono fuori dall'abitacolo il venditore e si diedero alla fuga. Pochi giorni dopo, a bordo di quella stessa auto, due malviventi, indossando finte pettorine dei carabinieri, tentarono di rapinare un'auto lungo la Siena-Bettolle nei pressi di Foiano, una coppia di medici. Si indaga adesso per capire se la banda sia anche responsabile della rapina violenta a Badicorte ai danni di una coppia di imprenditori. Le persone, finita adesso in manette, sono state fermate tra Sisi, Teramo e Tivoli, ma ci sarebbero anche altre 11 persone indagate. In totale sono stati loro attribuiti due rapine nella provincia di Siena ed Arezzo, quattro furti con spaccata ai danni di Sportelli, Bancomat di Roma e Perugia e dieci furti tra le province di Siena e Macerata.